perché oggi mi sento così stanco non lo so ma sì oggi è stata veramente dura sembra che abbiate avuto una giornata impegnativa è vero sir ci sentiamo piuttosto lenti e fiacchi e non sappiamo perché beh da quando avete iniziato a sentirvi così beh sin dalla prima mattina penso di sapere qual è il problema anche io mi sento fiacco di prima mattina almeno finché non faccio la mia routine mattutina tutto qui routine mattutina la routine mattutina ci aiuta a prepararci per la giornata cosa fa durante la sua routine mattutina inizio con la colazione una colazione sana da una grande carica di energia poi la mattina mi lavo sempre i denti infine mi faccio una bella doccia rinfrescante e dopo tutto questo mi sento fresco e sveglio pronto per la giornata sembra veramente ottimo ma come dovrebbe essere la nostra routine mattutina grazie di avermelo chiesto james la mia routine mattutina non è molto differente di quella di sir topham e sarò molto lieto di mostrarvela sarebbe fantastico james primo riempio il forno di carbone fresco questo rispargerà la caldaia renderà il pancino bello caldo e vi darà la carica per iniziare la giornata secondo una bella pulita le ruote questo aiuterà le vostre ruote a muoversi agevolmente sulle rotaie e dopo arriva la mia parte preferita bolle e acqua calda questo a volte può fare un po di solletico e ora sembro splendido e sono pronto a tutto grazie per avercelo mostrato james proverete anche voi due a fare una routine mattutina domani certo che sì anche io